Buongiorno, buongiorno a tutte e tutti. Siamo e saremo più di 500 ad avvicinarci su queste aule. Siamo fatti per incontraparci, per dialogare, per conoscere insieme. Le sfide che abbiamo scelto sono sfide che a noi stanno molto a cuore, ma che pensiamo che possono essere veramente alcuni dei punti da cui partire per riprogettare il futuro insieme. Vivere è un mestiere difficile a tutte le età, ma voi siete in un punto del mondo in cui il dolore più facilmente si fa arte. E allora suonate, cantate, scrivete, fotografate. Siamo una squadra, noi, voi, i docenti, tutti, e siamo insieme per hackerare un problema, per progettare il futuro. Pensate che la vita è colossale, siate i ragazzi e le ragazze del prodigio.